buongiorno ragazzi ben ritrovati sul mio canale youtube oggi parliamo della nuova promo in arrivo che arriva dopo i giochi invernali e che anticipa la squadra dell'anno quindi il toti quello che vedete qua al mio fianco è il design ufficiale ed è veramente a parer mio una figata design è bellissimo potrebbe essere una bella promo perché come leggete qua sotto e adesso vi leggo player item upgrade celebrates a centurion's longevity in football combining their 100 più caps sometimes 100 più goals assist clean sheet eccetera eccetera cosa vuol dire sarà una promo dedicata ad alcuni giocatori che celebrano diciamo record raggiunti durante la propria carriera non per forza record ok però obiettivi molto molto alti ad esempio 100 più presenze magari con la stessa maglia 100 più goal 100 più assist clean sheet eccetera eccetera quindi è una promo con giocatori chiaramente boostati quindi come abbiamo visto per esempio un De Bruyne Winter in versione 93 potremmo vedere magari non so un Buffon overall 90 mi viene da pensare oppure un Thomas Müller overall 91 per per citarne un paio magari Marco Reus magari si inventano una card per Neymar visto che è l'unico che non ha avuto card se non vado errato nel periodo diciamo invernale fra i mondiali e la mensilità del e le due promo del Winter ok la promo sarà durata di due due settimane 14 giorni per quale motivo perché inizia questo venerdì che è il 6 e ci accompagnerà fino presumibilmente alla settimana del 18 20 di gennaio per quale motivo perché il 20 di gennaio è il giorno ufficiale in cui inizierà l'evento del team of the year presumibilmente con gli attaccanti nei pack ma a partire dal 10 di gennaio avremo la votazione per i toti quindi dal 10 gennaio iniziano le votazioni per poi arrivare 10 giorni dopo l'evento in food fatemi sapere nei commenti chi secondo voi farà parte di questo team quali nomi potreste ipotizzare di vedere o chi vi piacerebbe vedere e vi ringrazio per l'ascolto la visione ci vediamo al prossimo video ragazzi ciao ciao